Buongiorno Abruzzo, come vedete non sono nel consueto salottino di Reteotto Mattinè, anche se la scenografia è sempre di Albano Paolinelli, ma non è propriamente la stessa. Sono tra le mie mura domestiche, oggi intervisterò un solo ospite, il signor Covid, che è venuto a trovarci perché a quanto pare è un nostro fan. Avete capito, sono risultata positiva alla Covid, ma fortunatamente come potete vedere sto bene, stiamo tutti bene e tutta la squadra di Reteotto Mattinè non vede l'ora di tornare a tenervi compagnia, a intrattenervi e a raccontarvi tante storie, le vostre, quelle che potete continuare a inviarci, a raccontarci e a narrarci attraverso le nostre coordinate, insomma lo sapete ci sono i social, potete entrare sempre in contatto con noi e noi torneremo presto a tenervi compagnia, a intrattenervi qualora lo vogliate naturalmente su Reteotto. Dateci una manciata di giorni, il tempo di negativizzarmi e torniamo, aspettateci!